Dal Vangelo secondo Giovanni Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui Se Dio è stato glorificato in lui anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito Figlioli, ancora per poco sono con voi Vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli Se avete amore gli uni per gli altri Parola del Signore In questa domenica ci viene proclamato un brano del discorso e della cena del Vangelo di Giovanni Un brano famoso in cui Gesù dice Vi do un comandamento nuovo Che vi amiate gli uni gli altri Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri In che senso è nuovo? Dice Sant'Agostino È nuovo perché è il comandamento di una nuova alleanza È il comandamento per uomini nuovi Cioè rinnovati dalla Pasqua di Gesù È nuovo perché il metro di misura ora è lui Ricordiamo che durante la sua vita Tante volte gli è stato chiesto Qual è il primo comandamento Il più importante Gesù ha risposto Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore La tua anima, la tua forza Le tue forze E poi ama il prossimo tuo Come te stesso Il metro, diciamo così Sei l'amore verso di te L'amore, il mio amore verso di me È quello che io devo applicare Anche nella relazione con gli altri Qui invece In questo momento ultimo della vita di Gesù Durante la cena finale Gesù dice Amatevi come io vi ho amato È qualcosa ancora di più Ma non è una cosa impossibile Perché? Perché nell'alleanza nuova Appunto l'aggettivo nuovo qui è molto importante Promessa dai profeti Una delle caratteristiche È proprio che i comandamenti di Dio Non sono più scritti su tavole di pietra Non sono più dei comandi esterni Che dobbiamo eseguire Ma, come dice appunto Geremia Scriverò la mia legge sui vostri cuori Ecco, cioè Gesù dà questo comandamento nuovo Ma ci dona anche lo spirito santo Che trasforma il cuore dell'uomo Ci rende capaci Di amare come lui ci ha amato E tanti santi Tante vite di santi Ce lo testimoniano Anche i santi Come dice Papa Francesco Della porta accanto Quelle persone Quelle normali Come noi Che però Vivono e hanno vissuto Il Vangelo Con semplicità Ma anche con profondità e pienezza Ci hanno dimostrato Che è possibile amare come Gesù Per carità Con tutti i nostri limiti Non un amore romantico Solo Un amore sentimentale Ma un amore concreto Un amore profondo Scelto ogni giorno Con sacrificio E con gioia O meglio Con la gioia Del sacrificio Del dono di sé Chiediamo al Signore Questo amore Chiediamo al Signore Di essere uomini nuovi Come dice sempre Agostino Che cantano Un canto nuovo Il canto di una vita Che si mette a servizio Senza chiedere nulla in cambio Il canto di una vita Che sa perdonare Perché è stata perdonata Il canto di una vita Che sa amare Perché è stata amata Nella sua fragilità Che si mette a servizio 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 Grazie a tutti.